Siamo tornati ragazzi con l'analisi quest'oggi del 3-5-2 Modulo che possiamo definire, come dire, penso fondamentale da provare su Pro Club, su Fut un po' meno 3-5-2 ovviamente sottintesa anche il fatto che analizzeremo tutti i moduli con la difesa a 3 Quindi io direi quest'oggi moduli con la difesa a 3 Andiamo subito a vedere il primo da analizzare che è il 3-5-1-1 Molto molto croccante questo ragazzi perché abbiamo tre difensori molto stretti Cioè questa è una prerogativa del video di quest'oggi Tre difensori stretti, cioè quindi non sono tensini CD e CS Sono difensori centrali un po' più larghi rispetto al DC Poi abbiamo un CDS e un CDD che sono due mediane a casa mia Abbiamo un 3-4-2 in più due esterni che fanno datornanti Quindi nell'ipotesi che si giochi in fase di non possesso fanno i terzini aggiunti Cioè quindi tornano indietro ragazzi Abbiamo un AT e un ATT col CC che funge quasi da uomo libero Infatti penso che il ruolo più importante in questo modo lo sia proprio il CC Perché c'è o non c'è fa la differenza Cioè nel senso nella giornata in cui non riesce a trovare la posizione giusta Non riesce a trovare i spazi È molto molto dura per i suoi compagni Trovarlo, servirlo ed altro Per quanto riguarda l'ATT io mi sento di dire che Essendoci anche il CC che funge da COC può fare direttamente comunque una punta Anche lui un po' più bassina che si muove di più Però l'ATT lo vedrei un po' più avanzato Comunque questo è un modulo che secondo me si può provare Ma ce ne sono dei migliori con la difesa A3 Andiamo ad analizzare il secondo della giornata Che è il 3-4-2-1 Allora questo è un modulo che è stato tra virgolette spammato sul ProGlab A pressione se non erro a FIFA 18 Anche a FIFA 17 se non erro Perché? Perché si lanciava molto sull'ATT e l'ATS E non solo le SLD facevano comunque giocatori molto avanzati Si attaccava in 8 e si dipendeva in 8 Era un modulo che fungeva tantissimo E forse quest'anno è tornato I due mediani sono mediani veri e propri Gli esterni tagliano il campo L'ATT e l'ATS fungono un po' da collante con l'ATT Perché si allargono e stringono il campo in continuazione È un modulo flessibile anche se non sembra così con l'immagine statica Ruoli più importanti secondo me Esterni e il DC Perché il DC in questo caso soprattutto in questo FIFA Può servire gli esterni e non solo Può servire l'ATT e l'ATS in profondità Può servire tranquillamente i mediani Fare 1-2 e il lancio Quindi il ruolo più importante per me è il DC E questo secondo me è molto valido Molto offensivo ragazzi Quindi bisogna avere abilità nel gioco Nel possesso perché quando si perde palla Beh è molto pericoloso per la squadra E si potrebbe subire gol facilmente Andiamo ad analizzare il prossimo Che è il 3-4-1-2 Eccolo lì Questo è un modulo che mi piace tantissimo Perché è un mix tra un 4-4-2 e un 4-3 con la difesa 3 Cioè è uno spettacolo È bellissimo da vedere e da analizzare La difesa è sempre quella a 3 Sempre stretti, compatti Per il resto abbiamo un centrocampo Che assomiglia molto a un 4-4-2 semplice Quindi un esterno L'altro esterno dall'altra parte E i due mediani Poi abbiamo un trequartista e due punte Quindi è molto variegato Ripeto Questa unione tra il 4-4-2 e il 4-3-3 Con la difesa a 3 Lo rende unico Non nascondo che potrebbe essere una possibilità di modulo per la nostra squadra Qui ovviamente il ruolo più principale, più importante per me è quello degli esterni Perché si fanno veramente tutta la fascia E se non sono in giornata loro Questo modulo potete anche accantonarlo Comunque consigliato Andiamo ad analizzare il prossimo Che è il 3-1-4-2 Questo è un'altra impostazione di modulo papabile per noi Lo dico francamente Perché qua abbiamo due punte vere Non statiche Si muovono E abbiamo un mediano Fisso davanti e dietro ai difensori Quindi abbiamo come una difesa a 3 Più un difensore aggiunto Per il resto Il ruolo più principale qui è dei CC e CCS Scusate CCS e CCD Che nell'eventualità Fanno anche i terzini Si allargano in fase difensiva E coprono le fasce Il mediano Però ragazzi Qua deve essere un vero mediano Cioè deve difendere a volte da solo Perché magari i CCS Stanno tutti avanti Gli esterni Gli attaccanti Si perde palla E là il mediano Fa la differenza Andiamo ad analizzare Un altro modulo Che è il 5-4-1 L'ho inserito Nella difesa a 3 Perché? Perché abbiamo comunque Tre difensori Abbiamo un A da un Asa Che per me sono esterni E le S e D Che sono quasi attaccanti Cioè in questo caso Le S e D Potremmo chiamarli così Perché stanno esterni Cioè stanno molto larghi Ma per me sono come se fossero As e Ad Qua il trenino Sinceramente non mi garba tantissimo Quel trenino centrale Di CCDCCOCT Non è che mi garbi così tanto Le distanze sono molte La linea di passaggio non è facile Quindi questo A questa per me ovviamente Non è super consigliato Andiamo ad analizzare Il 5-3-2 invece Sempre pensando Che sia una difesa a 3 Questo è molto molto Difensivo per me Perché abbiamo Una copertura del centro Degli spazi all'interno del campo Molto molto Studiata Cioè in senso Solida La squadra solida Che lascia magari Qualcosina sulle fasce Ma Centramente Non lascia un buco Per quanto riguarda Il ruolo principale Qui secondo me È quello del mediano Sempre Anche se Si fa Ce lo indica come CC Ma per me È mediano Andiamo ad analizzare Il 3-5-2 3-5-2 invece Con il trequartista Che è molto molto simile A quello che abbiamo visto prima Molto molto carino Abbiamo il 3-4-3 poi a rombo Il 3-4-3 a rombo Ragazzi Questo secondo me È sconsigliato a prescindere Cioè Vedendolo così Sul foot Non si può proprio utilizzare Cioè È veramente Una pazzia A giocare con questo modulo Seppur Magari Si abbia Un gran possesso Palla Pochi passaggi Sbagliati Di percentuale Ma Ripeto Anche su Pro Club Poca roba A me non piace Quel trenino Cioè Quell'asse centrale Che è uno scheletro Effettivo Della squadra Ma Mi sembra un po' Come dire Azzardato Sulle distanze Soprattutto Sulla linea di passaggio Per quanto riguarda Invece Il modulo Che andiamo ad analizzare Quest'oggi Finale Ultimo È il 3-4-3 In linea Allora Questo invece Secondo me Ha una logica Differente Una logica Migliore Perché abbiamo Degli esterni E degli attaccanti Io però Ovviamente Questo lo avvicinerei Molto Al 3-4-3 Con gli ATD-ATS È molto simile Il concetto È pressoché Uguale I ruoli Più importanti Qua per me Sono invece Gli attaccanti Perché Devono muoversi Destra, sinistra Dentro, fuori Non devono dare Punti di riferimento Anche Per quest'oggi Ragazzi Abbiamo terminato Il terzo Video Dei moduli È andato A buon fine Spero che vi siate Comunque Divertiti Barra Interessati A questa Miniserie Domani Uscirà L'ultimo Video A domani Eeeh Eeeh Grazie.